c'è anche mio fratello non ti scoccia vero mamma mi ha detto che non potevo venire senza di lui quindi no no certo capisco ha ragione è pericoloso uscire con il figlio di due che che isteriche ma lei ha raccontato di ieri assolutamente no ma scherzi deve imparare a farsi gli affari sui ha già abbastanza pettegola così com'è e poi i suoi problemi a cui pensare tua mamma invece quella quella americana che è venuta per fare la sorpresa che ha detto di questo casino lei lei è la mia dede io la chiamo così comunque no niente che doveva dire cioè rimasta di merda è venuta per farci una sorpresa e poi papà simone se n'è andato e con lui si è portato via l'anima della famiglia papo paolo ci si può neanche parlare quindi ma in tutto questo gran casino tu la senti una differenza tra tuo papà quello biologico e l'altro oppure no no poi io non so chi è non lo sai chi è no io cioè diciamo che ecco vabbè tu sei sicura di volerlo sapere questo è tanto che devo aspettare sì giusto io sono figlio di una specie di milkshake i miei i miei quando mi hanno concepito hanno mescolato i loro girini lo sperma e ecco poi vabbè hanno preso l'uovo da una donatrice e hanno fatto l'embrione e poi la mia dede mi ha insomma l'hanno messo nella pancia della mia dede e poi ecco qua però e sì ma è vero cioè così sono alla pari contano solo i comportamenti sì però comportamenti di merda e dai però secondo te secondo te somiglio più a papà simone o a papà paolo ma dopo la scenata di ieri sera è difficile da dirsi giusto sì dai per oggi non ci pensiamo no ma tanto sono pazzi tutti e due genitori no ma tanto sono pazzi 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 no ma tanto sono pazzi